madonna tantissima caro e allora e che cacchio per essere la pavotta no dai ma chiudete e se quando la pavocchio alla testa del chip allora ho messo la nuova cam la sony alfa 5000 obiettivo 1650 bellissimo 700 euro tutto però ne parlerò in un video e sto registrando della fotocamera di windows da sony e poi per avere due file separati con l'obs lo schermo problema che ho comprato il monitor curvo 144hz ecco io vedo questo praticamente sto vedendo questo in sto momento siamo su the baby in yellow ovicelido no giallo da babysitter e tempo di design a cuccare ovicelido hai chiesto che pensi? marrona caro si ok siamo in questa casa bella e questa è la famiglia di patata caro si ma sapete che sono meglio babysitter di tutta catania sapete no? a te ci penso dopo bella sta casa bella bella ora va accanto, ora va accanto i passi su come battere le cardieci frigo e formaggio oh guarda che è formaggio da per dirlo una carina dai oh beee mia chiocchia mamma mia chiocchia caro si mi piace una buonizia feed the baby ok dacci da mangiare eeeh che te boh e comunque è chiuso va bene prendi la bottiglia dal frigo cioè perchè la bottiglia è un bibbarone ohhhh ecca vezzè guon ma tu ti so se da siete te ammocchi mia ma fi ohhhh mi fai te morare caro si ma che ti ha mangiato piccoli di morti dove un bar ti ha mangiato hai picchiare allora mamma mia come da lì hai picchiare il pannolino caro si caro si mouse wireless quindi posso stare aca a girare cioè non è un problema posso giocare da sotto che puoi sfocare ah no poi mi abbia solo fatto un pochetto a cosa c'è volta a te lo fanno lì non ti cagare un po' ora il ruttino si fa ruttino oh ruttì allora oh ruttino forse a coda mettete nella spada e tu do il mio corsetto ruttì il portaletto il baby oh beh ora ti chiamo gioannino gioannino vedo se mamma che bello paratoio c'hai eh tu a che stanza a che soldi i soldi c'hai te ti abbiò il tuo cuca ti abbiò il tuo cuscino te vabbè ti chiedo la porta per sicurezza questo ah che bello capro ma non è carola l'ansia che tipo rapa la porta è massacuta caro che si ma non ne posso dire ok no non me ne vai prima che il genitore mi ammazzo prendi live si ma che stai a fare ora trova ah mi c'è a leggere un libro ammazzare magari un libro c'è a leggere fai una cosa tu non ho il telefono ti scordi un dicchio di tiktok che te va a cuca va bene caro un per un secondo ho visto degli occhi che sto libro buono è te legittime allora c'era una volta ogni atto sto atto praticamente cominciava a currere la strada e poi se si rubava la paduna e ti s'andai va bene ho cuca che cacchio ma che cacchio ma che tu è calcio di rigore per la juve vuoi il bar tutto regolare tutto regolare ma sai che c'è che è nascondito se cacchio con il tetto ti scatti andai a scacare e andai a scacare e andai a scacare e andai a scacare non mi ha tagliato questa faccia io sto come a badare i bambini ragazzi ti piglio ti metto in gialla la faccia non mi ha tagliato non mi ha tagliato oh no 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 carola cosa si poteva fare carola non sapeva che si poteva fare preco niente dai metti il plush corretto baby plush chiesto no vabbè non ci credo e chi è babbo ehi andai a scacare tra i bambini i bici di mattia no fu no schermi di social bianco e nero bianco e nero bianco e nero ah ehi 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 ammazza ehi come fai ehi ehi gli ucci si sentono dai vicini si sentono pezze mmm non farà cocchi di marrone santissimo cosa fai ma cosa fai notte 2 bambino ride si ammazza le restate dai 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 non ne deve attenti baby sitter ti ho detto che non ha affare ti ha detto non ha affare un nobice cosa ha detto ma cosa ha detto le sue usanze non prevedono che una ehi non ci sono state cose non è male eh prendete 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 teo signoruzzo ti aiuta per te mangiare ti accompagni ti ammazza ti abbono ti abbono ti abbono ti abbono ti abbono una bottiglia non devo avere caro c'era la bottiglia no io ti metto qua prima ti ho visto caro si la bottiglia qua era caro ma hai visto io 544hz caio te vi hai capitolo vabbè direttamente se lo sa c'è questo è 2 allora mi chiusi ninja la bastavo le sciafo le sciafo fatti coraggio vabbè non finchiamo un ninja ma doveva accadere così mi sa che non doveva accadere così l'abbiamo lasciato capito meno male l'ssd si carica su butto allora venite a buttare con me ammazzo te vado a bottiglia ho un dubbio ti devo dire ti devo dire vi devo dire che su picciriddu io me li ricordavo con i pigiama a righe e la bastare c'è caro sto sotto la riddu che cos'è il duficio ah una rotta taccangelo pannolino la voglio rivedere Fabio la voglio rivedere io invece do beberon davadare o jackhead davadare io vabbè allora io faccio cose eh no 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 eh non c'è nel senso io mi dissocio perché è troppo cringe faccio un secondo episodio perché mi stesse di anni e quindi ci è venuta la registrazione io mi stesse di anni perché mi stesse di anni io mi stesse di anni io mi stesse di anni io mi stesse di anni per il tempo che mi stesse di anni io mi stesse di anni perché mi stesse di anni non lo so